Stadio Tomaselli, sostituzione del manto erboso, primi rilevamenti sul terreno da gioco da parte dell'azienda giudicataria dell'Appalto. La prossima settimana dovrebbe essere quella in cui si passerà la fase operativa dei lavori per l'installazione del tappeto in sintetico. Già settimana scorsa l'assessore allo sport aveva prospettato la disponibilità di un piano B per gli sportivi di Pian del Lago che prevederà l'utilizzo del Michelangelo Cannavò, più comunemente chiamato Pian del Lago 2, e degli spazi della parte antistante al Palacanizzaro che sarà interdetta al passaggio delle auto per essere messa a disposizione di chi pratica sport, un piccolo spostamento in uno spazio sicuro per proseguire i loro allenamenti durante i mesi di intervento. Così i lavori, una volta effettuati, restituiranno agli sportivi della città un campo maggiormente confortevole anche per i giocatori della squadra di calcio e di rugby.